Venga il mio amico, sei lì! Te lo fermo lì! Ma che lo pu... se lo tiri giù, se lo frecce metto... Hai ragione! Puoi slacciare! Intanto lo tiriamo in avanti! Ma se lo hai ragione! No, ma lo devi buttare giù! No, dobbiamo metterlo di lato, così sta la terrazza! No, no, cazzo, no, mamma mia, vai! Non va bene! Oh! Aspetta, aspetta, aspetta! Ferma tutti! Comando io qua! Tiravi dietro, porca, tra noi! Ma serve un cazzo, sto! Ci vuole rumore! Vedete solo uno! Non serve un cazzo qua! Bisogna tirarlo un laterale! No, re del ricco! Tira! Ca, troia! Immortala! Però non serve una mica tirarlo bene! E' attaccato alla parte là! Fa così dopo! Poi c'è che... Voglio lanciarli in modo tale che becchi da questa parte! E' più vicino a loro possibile! C'è uno che va sopra nel casino! Sopra dove? Anche mia è la finestra! Capito? Mi hai tu? Capito tu mi hai! Capito tu mi hai! No! 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 Questo qua lo tirano qua come questo! Vedi? In modo che scavalchi quella lì! Anche se pigli il fondo! Lì! Lì! Adesso bisogna fare l'altro qua! Questo qua c'è! Un'altra parte! E' un secondo! Il fondo è un bambino! Un bambino! Un bambino! Ma che l'ha è il fondo della mano?! Però questo qua c'è... Un bambino! Non è un bambino! Un bambino! Un bambino! Un bambino! Un bambino! Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Allora, e a tutti. 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 un applausi. a tutti. 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 a tutti.